Egitto al via la COP27 e il Summit sul clima presenti oltre 120 leader mondiali obiettivo limitare i devastanti impatti climatici. Nave Humanity One ormeggia a Catania, 144 sbarcano, a 35 negato il permesso, il neoparlamentare suma oro e uno sbarco selettivo, una vergogna. Ha preso il via a Sharm el-Sheikh in Egitto il Summit COP27 sul clima presenti delegati di circa 200 paesi. Fino al 18 novembre incontri e vertici cruciali per le sorti del pianeta, obiettivo limitare gli impatti climatici sempre più devastanti in un mondo sconvolto dalla guerra e dalle turbulenze economiche. Solo negli ultimi mesi i violenti fenomeni hanno causato la morte di migliaia di persone e causato danni per miliardi di euro. Il Presidente della COP27 ha ricordato che per adempiere in modo efficace agli impegni presi è necessaria una partecipazione più ampia di tutte le parti interessate. Il ruolo delle organizzazioni private è importante tanto quanto quello degli Stati. L'appello lanciato dai grandi della terra e dagli ambientalisti unanime serve agire in fretta perché gli eventi meteo causati dal clima impazzito stanno avendo un impatto negativo spesso irreversibile. Intanto c'è grande attesa per uno degli eventi più importanti che si tiene il 7 e l'8 novembre. È stato proclamato un giorno di lutto a Kostroma nel nord ovest della Russia dopo l'incendio un locale notturno costato la vita la sera di sabato a 13 persone. L'incidente ha profondamente segnato gli abitanti del posto che continuano a deporre fiori davanti all'edificio andato in fiamme. Non ho dormito stanotte, è qualcosa di terribile per Kostroma, la gente è morta in un niente, è spaventoso, non potevo rimanere a casa senza venire qui in questo momento. Secondo le prime indagini l'incendio è scoppiato dopo una mega rissa che ha coinvolto pressoché tutti i presenti in quel momento, più di 200 persone. Sotto accusa, oltre al proprietario della struttura, c'è anche un giovane frequentatore del locale che avrebbe sparato un bengala in mezzo alla rissa causando l'incendio. Entrambi sono stati arrestati. 144 sbarcano, 35 devono restare a bordo. Questo l'effetto della prima applicazione del decreto del governo italiano sull'accoglienza di migranti all'arrivo di nave Humanity One nel porto di Catania. Ad attenderla un gruppo di sostenitori delle ONG umanitarie e con loro il neodeputato della sinistra, Abubakar Sumahoro, che ha parlato di sbarco selettivo. I corpi consumati di naufraghi già sfiniti dal freddo e dalla stanchezza sono considerati dal governo Meloni degli oggetti. È una vergogna, ha detto il parlamentare di origini africane. Intanto è in rotta verso Catania anche nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere con 572 naufraghi a bordo. Mentre restano a largo altre due navi, la tedesca Rise Above con 90 naufraghi e la norvegese Ocean Viking con 234 persone a bordo. Una causa che potrebbe ridefinire l'intero assetto di controllo dell'impero è Elkan Agnelli, che comprende anche la Ferrari e la Juventus. Si apre questo lunedì presso il Tribunale di Torino una nuova tappa di un processo che vede da una parte Margherita Agnelli, dall'altra i figli John Elkan, Lapo e Ginevra per l'eredità della madre Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato Gianni Agnelli. E al centro della vicenda il controllo della società Dicembre, che fa capo agli eredi di Giovanni Agnelli, un tesoro stimato in oltre 4,6 miliardi di euro. L'accusa di Margherita Agnelli è quella di essere stata tagliata fuori dall'immensa eredità dell'avvocato insieme agli altri cinque figli avuti dal secondo matrimonio. Gli altri tre figli sostengono invece che tutto rientra in accordi miliardari, sottoscritti ormai quasi vent'anni fa. Con una preghiera per i popoli sofferenti del Medio Oriente si è conclusa la visita di Papa Francesco in Bahrain, una visita incentrata sui temi del dialogo e della fratellanza con l'Islam e che ha registrato prese di posizione del Pontefice sulla difesa dei diritti umani e sulla condanna della pena di morte, tuttora in vigore nell'ex Emirato del Golfo Persico. Grazie.